Quest'oggi ci è venuto a trovare in redazione Giuseppe Detopino Falco, candidato sindaco per la lista Unione Civica del Comune di Sant'Angelo da Rifai. Quali sono state le ragioni che l'hanno fatto candidare alla carica di sindaco? Beh, diciamo che le ragioni sono sopravvenute in un continuo di ragionamento con alcuni amici che hanno lavorato molto affinché il nostro piccolo paesino, che ha visto importanti rappresentanti della politica locale e anche zonale, vedevano il profilarsi di una sola lista. Quindi veniva meno quella partecipazione popolare, la scelta di programmi diversi e di uomini diversi, veniva meno quel senso della democrazia compiuta. E tutti insieme ci siamo dati, come dire, una voce di ricomporre questo tessuto politico e amministrativo del Paese per dare la possibilità ai nostri cittadini di poter votare, di poter scegliere tra le persone, in modo da realizzare una vera democrazia compiuta. Quindi una lista civica, così come la denominazione stesso della lista Unione Civica, com'è la formazione di questa lista? Una lista eterogenea, ci sono presenze che fanno riferimento tra virgolette a varie forze politiche, ma sono adesioni ideali, non sono adesioni di partecipazione vera alla vita dei partiti. C'è una condivisione di un progetto da realizzare, è la presenza del mio avversario storico che fortemente mi ha voluto in questa lista accapeggiarla perché mi ha identificato come elemento di equilibrio e di garanzia in questo, dà il senso che noi vogliamo dare la possibilità al nostro Paese di rinnovarsi, dare la possibilità a questo Paese di frenare questo esodo costante dei giovani, di vedere frenato il fenomeno dell'abbandono complessivo del territorio e di mettere insieme tutte le cose che ci possono unire in questo senso mettendo da parte le cose che ci dividono. Campagna elettorale nel vivo, programma, quali sono i punti cardini, i punti ai quali ci si riede un poco di più, i cavalli di battaglia del suo programma? Il cavallo di battaglia principe che ci siamo dati è quello di questo appuntamento storico che noi dobbiamo affrontare, la nascita del Parco Nazionale del Matese. Questo è un appuntamento che riguarda intere popolazioni di due regioni. I territori saranno coinvolti in una nuova perimetrazione, una nuova logica, una nuova cultura ambientale. Questo significherà per noi portare a questo appuntamento persone che sotto il profilo dell'esperienza abbiano e possono dare qualche cosa in più rispetto ad altri. Mettere al centro le tematiche dell'ambiente e del territorio significa innalzare il livello di qualità di quelle che sono le nostre potenzialità e su questo sviluppare un'azione futura nei confronti sia delle popolazioni che risiedono all'interno di queste aree sia le altre che potrebbero essere favorite nell'intraprendere iniziative anche di carattere imprenditoriale e anche in regime di minimis per poter avere delle agevolazioni che noi con un nostro regolamento già condiviso con Salvatore Buccia e con tutti i componenti della lista per un piccolo ragionamento programmatico che abbiamo fatto possiamo mettere in campo con un regolamento specifico dove coloro che sono interessati a valorizzare le arti, i mestieri, il piccolo commercio qualora avessero la possibilità di poter assumere qualche unità lavorativa e quindi anche in modo temporaneo e quindi far valere la presenza di uomini e di donne sul territorio stesso noi saremo ben lieti di favorirli con azioni che riguardano il pagamento delle tasse ridotte, i servizi divisibili pagati in una maniera diversa da come si stanno pagando. Questo è lo spirito del programma complessivamente. Naturalmente ci sono elettori che già sanno come sono orientati per chi votare, qualcuno casomai sarà indeciso, leggerà il programma, anche i candidati stessi sceglieranno, sarà un motivo di scelta, ma se lei in questo istante si trovasse di fronte agli elettori del suo paese, quindi come una specie di spot le sto imitando a fare. Cosa direbbe ai suoi elettori per dire votate la mia lista? Quali ragioni ci sono per essere votati? Guardi, ripeto quello che già ho detto all'apertura della campagna elettorale nella fase conclusiva del mio intervento di presentazione della lista. Noi ci siamo messi insieme, abbiamo messo 3-4 punti del nostro programma che sono la centralità dell'iniziativa che riguarda non solo il nostro paese ma anche il territorio. Hanno la possibilità di poter scegliere tra un'esperienza consolidata, persone che hanno adempiuto onorevolmente degli incarichi sovracomunali se non regionali e anche oltre. Abbiamo questa esperienza e questa capacità anche di intraprendere iniziative che vanno al di là dell'ordinaria amministrazione di un paese. Se questa nostra esperienza, professionalità, capacità, questa qualità strutturale che possiamo rivendicare perché sono i fatti che rivendicano questo, ci viene riconosciuta. Penso che l'elettore del mio paese non dovrebbe avere alcun dubbio rispetto all'approssimazione.